Sti cazzi, ma perché usi sti cazzi a sproposito? Se lo devi usare, usalo bene. Sti cazzi vuol dire che se ne frega, San Benzano ha 4.000 abitanti, no? Sti cazzi, se io invece vi dicessi che, non so, Dintino e De Luda devono cercare un trance per tutta la valle, uno diceva, beh, ma i coglioni, è tanta roba, stupore, ma i coglioni. Allora, ricominciamo, vediamo se vi siete imparati. La Lassi ho vinto a Torino con la Juve, voi che mi dite? Ne coglioni. Ne coglioni, perché è una cosa, insomma, non è così, no? Così frequente che succeda. Allora, se invece vi dico, De Luda lavora al parificio della moglie? Sti cazzi. Bravi, avete appena appreso l'articolo numero 7 della Costituzione Romana, perché un bel sti cazzi è il momento giusto quando c'è la discussione, quando non sapete come uscire. Ma sti cazzi. Ognuno ha il calza sua. Grazie.